Se vi dicessi che ho trovato l'alternativa definitiva all'Apple Pencil mi credereste? Beh ragazzi non lo so però rimanete sintonizzati perché lo scopriremo assieme. Ciao ragazzi ben ritrovati come sempre qui sul mio canale YouTube e lo vedete davanti a me o il mio iPad Pro del 2018 un dispositivo dunque non recentissimo però davvero innovativo a suo tempo lo sapete benissimo e a fianco ho ben due Pencil da un lato quella marchiata Apple l'originale che tutti quanti conosciamo dall'altro lato invece una Pencil marchiata Gojo Dock che è praticamente simile nel form factor ma vi garantisco lo vedrete è divina nel senso che funziona alla grande alle stesse caratteristiche della Pencil meno una ma lo vedremo successivamente e soprattutto costa tre volte di meno dunque è un'alternativa economica all'Apple Pencil per chi non volesse spendere grosse cifre per acquistare la Pencil che costa 120 130 euro dunque non è una spesa di poco conto e che ripeto funziona davvero benissimo e se vi interessa acquistarla potrete partire qui sotto dai link in descrizione al video la troverete anche sul mio canale telegram delle offerte link sempre qui sotto in descrizione soprattutto ve lo dico perché ci sono anche dei codici sconto per voi dunque leggete la descrizione guardate perché troverete tutto quanto lì ma ragazzi è venuto il momento di metterla alla prova di vedere effettivamente come funziona e soprattutto di darvi delle indicazioni in più proprio su questo dispositivo allora ecco qui torniamo un po sulla scrivania vediamo l'iPad e qui vedete la mia Pencil Apple sapete benissimo che la Apple Pencil ha tutte quante le funzionalità non è in grado di abbassare i menu però ragazzi può fare queste gesture partire dall'angolo in basso a destra e aprire una memo rapida a sinistra invece scattare uno screenshot e poi andarlo a modificare e vi faccio vedere stesso in questa schermata come con la Pencil di Apple potrete fare anche un lavoro di questo tipo cioè andarla a piegare premere di più per andare a dare maggiore intensità al tratto soprattutto ecco abbiamo il riconoscimento del palmo della mano dunque l'esperienza è praticamente ottima insomma stiamo scrivendo letteralmente su un tablet senza accorgercene e soprattutto senza notare lag di sorta allora è venuto il momento di mettere alla prova invece quella di GojoDoc di vedere come funziona se effettivamente ci restituisce la stessa esperienza sono tornato sulla home e la prima cosa da fare giustamente quella di andare a configurare la penna penna che anzitutto vi faccio vedere nel suo form factor è praticamente identica alla Apple Pencil tra l'altro stessa lunghezza vediamo che abbiamo la stessa punta che possiamo andare a svitare e poi sostituire tra l'altro ragazzi nella confezione che è questa c'è anche un pennino di riserva dunque lo avremo già a disposizione cosa diversa che ha dalla Apple Pencil e qui nella parte in alto c'è un tastino con un led che permette di accenderla e di andarla a configurare allora prima di farlo richiamoci nelle impostazioni e poi andiamo nel menu bluetooth e sì perché lei funziona proprio con il bluetooth qualora aveste una pencil di Apple la prima cosa da fare è andarla a disconnettere ovviamente chi ha la pencil non va ad acquistare questa però supponiamo che si è rotta supponiamo che è successo qualcosa che la utilizziamo su due dispositivi e cerchiamo un'alternativa insomma la prima cosa da fare è questa e adesso prendiamo la nostra penna e facciamo quello che avremo fatto con l'Apple Pencil cioè andiamola a mettere con il bagnete qui nella parte in alto dell'iPad e questo mi permette di farvi vedere proprio questa funzionalità che è identica all'Apple Pencil dunque potremo ricaricarla agganciandola al nostro iPad cosa davvero straordinaria e questo già ci dice tutto allora vedete si è acceso il led in alto la penna è stata rilevata nei dispositivi bluetooth dunque andiamola a selezionare e clicchiamo nuovamente sul tastino di abbinamento eccola qui la gd 13 pencil connessa e adesso è pronta a funzionare vi faccio vedere che posso scorrere tranquillamente scorrere questo menu posso abbassare e soprattutto ragazzi ho le stesse funzionalità dell'Apple Pencil posso andare nell'angolo in basso a destra e aprire la memo rapida posso andare in basso a sinistra e aprire lo screenshot così come posso andare a scrivere vedete stessa esperienza posso andare a piegarla vedete tratto davvero più doppio così come fa abitualmente la nostra pencil ma adesso voglio farvi vedere il resto delle funzionalità mettendola un attimo a confronto sull'app note e sull'app good notice perché ci sono delle differenze non tanto tra le due penne ma cose che dobbiamo capire soprattutto nell'utilizzo successivo qualora la acquistaste e allora prima di aprire l'app delle note voglio andare a dissociare questa pencil mi basterà semplicemente farlo nel menu bluetooth e andare nuovamente ad associare la mia apple pencil dunque la vado a collegare qui il dispositivo la riconoscerà e dunque funzionerà tranquillamente perché faccio prima questa prova vado a mettere il menu di scrittura magari metto un tratto medio alto giusto per farvi rendere conto ed ecco qui quello che vi voglio fare osservare guardate bene lo scorrimento della pencil sull'ipad proprio fissate la punta guardate il tratto è praticamente attaccato alla punta vi faccio vedere subito la differenza in good notice perché ecco qui c'è differenza stesso con la pensi proprio perché dipende dalle app guardate bene il tratto vedete leggermente staccato ve ne accorgete se andate a scrivere più velocemente guardate il ritardo che c'è mentre questo non si verifica nell'app delle note ok vedete il tratto rimane ancora perfettamente unito alla punta proprio perché questa si tratta di un'app nativa di apple andiamo un attimo a cancellare tutta quanta la nota e adesso facciamo il confronto proprio con la nuova pencil dunque la vado nuovamente ad associare per poterlo fare devo sempre disconnettere quella di apple la vado nuovamente ad attaccare qui si accende tra l'altro il led ragazzi si illumina di diversi colori ad indicarci lo stato della batteria che dura davvero tantissime ore non vi dico un numero preciso semplicemente perché dipende dall'utilizzo dal fatto se la teniamo sempre attaccata eccetera comunque avrete un'esperienza molto simile a quella dell'apple pencil tra l'altro vi basterà andare nei widget per esempio dell'ipad e potrete tranquillamente controllarne lo stato della batteria anche qui ok torniamo nell'app note e andiamo a vedere questa effettivamente se funziona come la pencil dunque mi vado a mettere la mia modalità di scrittura stessi settaggi e guardate nell'app note anche qui il tratto praticamente rimane attaccato vado velocissimo tratto preciso perfetto vado nell'app di good notice anche qui vado a cancellare un attimo la pagina e vado a fare la stessa prova vedete anche qui il leggero lag c'è molto simile a quello dell'apple pencil comunque adesso andiamo a provare la vera e propria esperienza di scrittura torno nell'app delle note vado ad eliminarla e mi vado a creare la mia nuova nota ok posso scrivere guardate così appoggiando il palmo della mano sull'ipad ciao guardate non ci sono ritardi ecco adesso l'unica cosa che non tanto mi è piaciuta ma non mi è piaciuta perché praticamente identica all'apple pencil e che non ha il doppio tocco dunque se io vado a fare così sulla pencil di gojodok non si attiva la gomma dunque sarò costretto ad andare a fare questo lavoro selezionarla da qui e poi andare a cancellare così come la apple pencil ok torniamo un attimo alla nostra nota riselezioniamo la modalità di scrittura e proviamo appunto il palmo vedete ciao iscriviti al mio canale ok guardate ho premuto un po di più è fatto anche il tratto più profondo più spesso dunque posso andare a fare anche questo lavoro guardate come varia posso fare così vedete esperienza di utilizzo davvero fantastica tra l'altro anche la funzione di nota rapida dallo schermo spento mi basterà come sempre fare un tap per accendere lo schermo e cliccarci sopra ed entrare nella mia nota rapida vedete una penna davvero stratosferica la trovate ragazzi a 36 euro vi ho detto che costa praticamente un terzo ma con il codice sconto la pagherete ancora meno dunque conviene davvero approfittare ok io non ho altro da aggiungere per non dilungarmi troppo avete visto le qualità di questa penna se il video vi è piaciuto se vi è stato utile mi raccomando lasciate il like questa per me è la maggior forma di supporto iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche così potrete rimanere sempre aggiornati su video come questi su chic come queste seguitemi sui miei social network in modo particolare su instagram vi ricordo anche la chat di supporto telegram insomma link tutti quanti qui sotto in descrizione ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale